Ovviamente è bello essere in cima alla classifica ma non possiamo allontanarci e perdere l'obiettivo quindi andiamo in acqua sempre con il focus e penso sia la cosa più difficile perché quando rincorri sai che devi andare in quella direzione quando sei al top è difficile mantenere la concentrazione e ci stiamo abituando e lo faremo.